Da uno studio delle Camere di Commercio emerge che l'economia abruzzese sta risentendo sia in termini di export che di import in seguito al conflitto Russia-Ucraina. La provincia di Chieti è particolarmente esposta nei confronti della Russia sia per i metalli industriali che importano le aziende del settore automotive, sia per l'export verso la Russia che fa segnare un meno 75% di esportazioni dal 2013 a fine 2021. Il possibile blocco dell'importazione di gas e petrolio, oltre che di materie prime come grano, olio di semi dalla Russia e dall'Ucraina, sta già provocando forti rallentamenti all'economia con aumenti considerevoli dei prodotti finali e pone forti dubbi sulle capacità del tessuto produttivo di reggere gli aumenti spaventosi di queste settimane. Molte aziende stanno rivedendo i loro piani, fermano la produzione, rimodulano i turni di lavoro, mettono in cassa integrazione i lavoratori e per il momento reggono ancora. Ma se le cose dovessero precipitare, il tessuto produttivo sarà messo di fronte al rischio di collasso. Noi, solo da verso la Russia, in termini di esportazione e importazioni, dal 2014, perché questa è una guerra lunga che ha avuto il suo apice brutale a partire dal febbraio 2022, ma sono saltati già 800 milioni di interscambio commerciali. Ci sono tante situazioni che ovviamente vanno viste, anche in virtù del fatto che noi importiamo materie prime essenziali, anche per la produzione di marmitte catalitiche come Palladio, quindi relativamente al mondo dell'automotive. Ma importiamo anche il grano, importiamo l'acciaio, siamo importatori e esportatori anche verso quei paesi di mobili e di tanti altri prodotti. Quindi è una guerra atroce che prima riusciamo a fermare, o meglio i potenti di questo mondo riescono a fermare, meglio è. Dall'altra parte, prima cominciamo a dire che ripartiamo da una riprogrammazione vera a livello nazionale ma soprattutto territoriale e prima riusciamo ad affrontare meglio le grandi sfide che abbiamo di fronte.